De Santis, allora, è arrivata questa inchiesta della Procura di Pescara all'epilogo, sette indagati per quanto concerne i vertici di strada dei parchi, tutto questo anche dopo i vostri esposti, le vostre denunce? Sì, le procure abruzzesi si sono mosse dopo un nostro esposto di settembre 2018 in cui mostravamo foto e immagini inequivocabili sullo stato di trasandatezza, di scarsa manutenzione dei viadotti, delle pile dei viadotti dell'A24 e dell'A25, ferri scoperti, il cemento si sbriciolava direttamente sulle nostre dita praticamente, quindi noi abbiamo fatto un esposto non solo allegando queste immagini, anche video, ma facendo anche un'analisi delle spese affrontate o non affrontate da strada dei parchi in questi anni per la manutenzione sulla base dei dati del Ministero delle Infrastrutture, quindi abbiamo fatto anche un'analisi tecnica, un corposo esposto che quindi evidentemente aveva le sue ragioni perché a distanza di due anni arriva sia l'inchiesta dell'Aquila sulla 24, della procura dell'Aquila sulla 24 e della procura di Pescara adesso sulla 25. Ovviamente le indagini, le inchieste penali faranno il loro corso, vedremo se ci saranno dei responsabili, però ci sono dei dati incontrovertibili, tant'è vero che il Governo ha proceduto al commissariamento per effettuare i lavori nella 24 e 25, ma anche quello va molto a rilento.